Sulla questione Saline, oggi conferenza stampa qui a Montesilvano del Partito Democratico, ci sono delle novità ma anche delle richieste che voi fate, richieste specifiche. Noi come consiglieri di un comune su cui insiste tra l'altro un forte detrattore ambientale che è il SIR e con la discarica a pochi metri, sebbene non sia una competenza di carattere comunale non possiamo vivere quello che è un problema in maniera passiva e con rassegnazione. Quindi ci premeva instradare un tavolo con tutti quelli che sono gli attori principali coinvolti, quindi ci siamo relazionati sia con l'Arta, con la dottoressa Lucchetti, per capire qual è lo stato di compromissione delle diverse matrici dove c'è una forte vulnerabilità dell'acquifero perché è a ridosso della discarica e quindi con problemi di infiltrazione del percolato e ci siamo interfacciati sempre grazie ad Antonio con l'Arap che dal 2018 a seguito di una convenzione è soggetto attuatore che deve seguire quindi sia quelle che sono le procedure tecniche ma anche amministrative e ci preme proprio la scadenza tra l'altro da convenzione che al 2021 che si può dire che domani devono quindi scattare quelli che sono gli obblighi giuridicamente vincolanti con le ditte che saranno appaltatrici per mettere in pratica le misure di salvaguardia, le mise, quelle cosiddette misure di sicurezza. Tra l'altro anche la nota della regione sottolinea in cui tra l'altro rimette, riaggiorna quelle che sono le linee guide da seguire per le procedure di analisi ambientale fa proprio presente che sebbene sia una cifra importante 10 milioni sono però insufficienti rispetto a quello che si dovrà fare tra l'altro nella nuova perimetrazione è anche contemplata la parte di Moscufo e anche Città Sant'Angelo e quindi è bene dare, incalzare.